Norma di Vincenzo Bellini. La vicenda della sacerdotessa Norma è ambientata nell'epoca della dominazione romana delle Gallie. Narra una fosca vicenda di amori traditi e morte. Il proconsole Poglione, legato segretamente in passato con la sacerdotessa Norma, dalla quale ebbe due figli, è ora amante della giovane sacerdotessa Adalgisa. Dopo una serie di vicende tragiche, Norma si sacrifica sul rogo insieme allo stesso Poglione. L'area più famosa dell'opera, Casta Diva, verrà eseguita da Silvia Reghini accompagnata da Agnese Santilli. Grazie a tutti. 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 Tempra ancora, tempra ancora, tempra ancora. Tempra ancora, tempra ancora, tempra ancora. Tempra ancora, tempra ancora. Tempra ancora, tempra ancora. Tempra ancora, tempra ancora. 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 Tempra ancora.